allora su questo bellissimo team of the week che oggi ea sport ci propone troviamo il fantastico oland con 33 che boh forse supersub vorrebbe essere buono poi troviamo il sium che sarebbe sì sarebbe sarebbe che porco dio esci di casa ti trovi belen davanti che ti dice ue vuoi fare u pesce o pesce con me e te ovviamente fai sì romoletto lucao che le pesce o pesce ce n'ha abbastanza con quel bel salamotto lì davanti e sinceramente a me il giocatore che non mi dispiacerebbe trovare come ho detto già prima è ferrera carrasco perché ferrera carrasco 4 4 questo supersub vorrebbe essere pulito ma perché sto nel extra bit pure manuelino noiero non sarebbe male eh un bellissimo oro 2 fatto apposta perché di solito faccio fuori classe 1 però sapete che ovvero che c'è sta cristiano ronaldo dico a zii oro 2 oro 3 oggi quindi ne butto sull'oro 2 easy barman dammi un amore una bionda shaker 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 me butto sulla sinistra non shakerato oscar plano l'oscar plano lo scarpiano un pic subito pazzesco il primo del signor k l'oscar plano prende subito questi due centesimi che in realtà sono due euro se non capite la meme buttatevi dal fosso e lo si apre beh romoletto lucacu vabbè dai lucagone dai ci potemo sta aprimo subito sta merda subito subito vabbè next allora mega pacchetto raro vediamo un po' questi tanto lo sappiamo lo sappiamo questi che so so la clown fiesta ehi volevamo run frè ma chi te sei in culo la coglione la porta è proprio lui pazzesco maaa doppio walkout in a pack ok più a lan che ormai costa una scureggia altro mega pacchetto raro e capirai e mo che c'ha later doppio walkout stamo freschi eeeh pa 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 eeeh marcos alonso con le sue gambe come vola altri due mega pacchetti oppa la la dai un altro walkoutino per metterci un po' de pepe marcio bandiera almeno francia per idea è proprio quel portiere del fottuto newcastle dubravka ultimo mega pacchetto e poi ce li apriamo quei due giocatori team of the week e forse c'ho anche un aggiornamento 86 più bello bei mega pacchetti messico alla destra carlos vela per l'ennesima volta tanto o è lui o il corona mi sa che comunque sia pure se prendi vela prendi il corona ugualmente oh io l'ho fatto i peri l'ho visto gente che ci ha trovato nel zoom ho detto vabbè oh sboccia lo champagnino ole subito eccolo italia c o c lecce opera la chi l'è mancosu ah si lo apro col naso e va te la piante il culo te la vai proprio a piante il culo frema proprio senza la vasella spagna esterno sinistra un'altra volta quel coglione che ho trovato nei rossi lo scarplano lo scarplano ma levate da lì coglioni 86 più aspetta che mi sistema un attimo il pisello che è un attimo storto è un po' come una bussola se non sta sempre verso un lato non va bene oppela là david silva oelle oggi che profumino sto cazzo ci droppa subito un elite 3 se si dà subito una bella sgrulladina pulitissimo ferrera carrasco è goloso uno di cinque pippo berardi andiamo dei mimmo berardi berardi una veranda ultimo giocatore dici gli ultimi saranno i primi frema leno 86 guarda te dirò che sti picchi non so manco troppo de merda aprimo sto 100.000 non è un walk out vabbè alla fine è 20 euro de pack quindi il terra è esse ma manco walker bambissaga 83 puuu olè non a me manco walk out walk out e walk out attenzione Brasile cdc fernando elite 1 attenzione perchè spezia luca va allacciata alla cintura di sicurezza fratelli 1 di 5 27 win almeno carrasco ne picca ok carrasco e neuer allora pic tutto di destra dopo un bel carrasco una bella chiamatina delort la orta me vola damersium mortacci tua pippo berardi lo si apre con la moneta con la moneta perchè alla fine sono solo 20 euro di pacco walk out ok ci fotto è un if chi è fernando non lo sopporto già più mi serve una preparatrice atletica a me che mi massaggia che mi sprona che mi fa trovare walk out please walk out ok almeno belgio germania portiere manuelino no è leno non è neanche manuelino un altro elite one un altro elite one allora due pacchi da 25 euro ma non li chiamo più ultimate li chiamo col nome del prezzo 25 euro di pacco aprite sti cazzo dei rubinetti ok belgio c o c ooo andiamo ok 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 il k che trova il k no no lui no no ci risiamo sto a perdere tutti i capelli ma non ce ne frega niente oppela la è l'uscar è l'uscar no 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 assolutamente no e no così porco dio che zon ed elite one come al solito lo ripeto per fare elite one servono 27 win su 30 partite di weekend league ma non vi preoccupate non vi preoccupate perché troviamo proprio lui ora vediamo un po' no 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 e basta e non ci sto dentro porco dio ma non ci sto dentro scorpione 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 grazie per il contenuto può tranquillamente fare di me ciò che vuole anche ficcarmi un bel pisello in tutti i vari angoli del corpo un altro elite one ragazzi tre elite one di fila allora due pacchi da 100 mila due ultimate due pacchetti team of the week partimo dai 100 mila me do pure una grattata di capoccia ok partiamo subito col piede quello giusto gli diamo subito un po' dei gas Francia ATT mercadio terca puttana doccia e babbeli mortacci tua le petit diable secondo pacco giocatori rari maxi capiremo che ci ha dato il walk out vede un altro walk out è un po' boh eh è un if e che c'è dai italia c o c che è lecce mancooo zuuu to rutto pac doppio rutto vediamo un po' se il ruttino porta fortuna ok dimmi che è chiellini almeno Giorgio chiellini raro uefa champions league ehi guarda come entra io sono il king kong elite 3 vai andiamo control c contro v nel culo ce lo prendiamo sempre in due in tre in quattro Ok, walk out Che miraggio Almeno un oier Oh, e dai E che cazzo E namo Porca troia E il secondo dei rating più alto Porca di quella puttana Vai, trottola Oh, grazie Dio Elite 3 Allora, pacchetto giocatori rari maxi Pacchetto premio ultimo of the week Sto ragazzo poraccio, secondo me Se vuole prende la corda Un po' come tutti quelli che abbiamo aperto finora Al ennesimo pacco da 100.000 Inghilterra ES Dai cazzo E namo Siamo riusciti a fare più dei 100.000 crediti a un Elite Grazie Bacetta al cielo Esultanza della pulce Incredibile Oh, si gode Pacchetto premio ultimo of the week Così lo apro Così, cotto e mortazza Eh, mi sa che è più mortazza che cotto, eh Vabbè, dopo un Rashford ci posso fotte Che è un altro Berardi Ah, regà, io adesso provo a fare una cosa Provo a fare una capriola E faccio una capriola, sì Porco Dio Stava ribaltà Boom E mo easy 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 capriola Porco Dio Peria Non sa per fare capriole Porco Dio Ronaldinho Capriola Ronaldinho Anzi, capriola Pac Ronaldinho E mo Adesso arriverà la gente Che dopo farà Afree Afree Fai la capriola Porco Dio Non le so fa Pacchetti con una base Olè Eric Cantona Oli Pepperoni A o Allora Uno di tre giocatori Oh Il primo Holland Allora Pacchetto mega Oh Walkout C'è sto capincazzo Brasile Il filtro Per daltonici Il filtro Per daltonici Eh Che fa Che sta Che fa No Eh Sinistra E destra Oh Per alla Super Nei Mario Regà Oro tre Tu apri Gli elite No Tu apri Gli oro tre E troverai Roba buona Allora Pacchetti Gona Ah si Lo faccio Ormai lo faccio Per il meme Boom E' quella Dannata capriola Che ti sbanca Sempre La non capriola Del frenes Da scordinato Olanda No 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 Mamma Mia Poteva Essere Cru Era Veramente Quella Maledetta Capriola Vabbè Regà Sai che Ve dico Che anche Oggi Il contenuto Per i ragazzi Di youtube E' stato Fatto E' stato Eseguito Cioè Guarda Sembra che Sono uscito Da una Scopata Che in realtà Non è mai Vero Però Che in realtà